Buon pomeriggio, buon pomeriggio e ben ritrovati, siamo live Milanello Today, buon pomeriggio anche a chi ci segue, i rossoneri che ci seguono su Facebook, in diretta Facebook, per fare gli auguri a Patrick Cutrone, benvenuto Patrick. Buonasera, grazie a tutti per gli auguri. Benvenuto anche a Mauro Suma. Ciao Federica, tanti auguri Patrick. Mauro, te li ricordi, i tuoi 20 anni? Sì, li ricordo bene, c'era un Milan povero in quegli anni, però in alcuni suoi componenti piuttosto bello e nella stessa porta, nei miei 20 anni, Mark Eteley segnò un gol in un derby che ha fatto la storia e mi auguro che anche l'ultimo che hai fatto, Patrick, faccia la storia almeno di questa stagione, oltre a tutti gli altri gol che farai, perché se conservi questa testa farai tanti gol in carriera. Grazie mille, speriamo. Ti rimasta ancora un po' di adrenalina post derby? Sì, ci penso sempre, col gol. È stato il gol più bello della mia vita, quindi. Stanno arrivando tantissimi auguri un po' da tutte le parti del mondo, dalla Tunisia, dall'Indonesia, dal Ghana. Ti leggo anche qualche messaggio che ha una parola in comune, che è umiltà, perché è la caratteristica che i nostri tifosi ti riconoscono, oltre a, evidentemente anche a saper segnare tanti gol. Gabriele scrive, auguri Patrick, continua così con umiltà e dedizione, si vede che sei attaccato i colori rossoneri. Che cos'è per te la maglia del Milan, Patrick? La maglia del Milan è per me un onore giocare per questa squadra, è la squadra che ho sempre tifato da bambino, quindi amo questi colori. Mauro. Cosa c'è fra te e Suso in campo? No, beh, io so benissimo quando Suso sta per mettere la palla dove finisce e lui sa dove metterla e credo sia una bella intesa. Quanto è importante per te la tua famiglia che continui a tenerti con i piedi per terra? No, per me è importantissimo averli al mio fianco perché mi hanno sempre tenuto i piedi per terra, mi hanno sempre detto di restare umile e di essere il ragazzo che sono, quindi a loro devo tanto perché io ho fatto sacrifici ma anche loro ne hanno fatti tanti. L'elettricità che accendi in curva sud fra i tifosi del Milan è simile a quella di Inzaghi, riesci a metabolizzarlo questo concetto e a lavorare duro anche domani in allenamento o un po' ti fa effetto? No, beh, mi fa effetto a fine partita, quando ci penso vengono sempre i brividi, però io in allenamento penso ad allenarmi duramente e a migliorarmi sempre di più. C'è qualcuno che ci chiede se avevi studiato l'esultanza dopo il gol al centoquattresimo minuto in questo derby di Coppetello ti è venuta spontanea? No, è venuta spontanea perché non ci credevo, quindi niente, non sapevo cosa fare sinceramente, poi sono andato a abbracciare tutti. Ma evidentemente te ne crei una nuova ogni volta perché ricordiamo una volta hai baciato il tatuaggio che alle nostre spalle, fra l'altro vediamo in questa grafica un tatuaggio che ricorda il legame con la tua famiglia, anche se questa foto non è che ti piace molto perché avevi la barba troppo lunga. Sì, ho un po' la barba lunga, i capelli corti qua, la barba lunga c'è troppo stacco. Bisogna lavorare un po' sul look però, sulla determinazione davanti alla porta, Patrick no, perché Mauro ricordava evidentemente anche gli assist che Suso ha fornito a te, due in campionato, due in Coppa Italia, però anche tu un assist per Suso l'hai messo anche bello preciso. Sì, sì, contro il Crotone. C'è chi dice che ci sia quasi più soddisfazione essere generoso per il compagno, ricordo Antonio Cassano ad esempio diceva, mi provo quasi più gusto a mettere un assist che il gol, tu però mi sembri proprio bomber d'aria, vero? Sì, io amo segnare, però se faccio un assist va bene lo stesso. Ci sono dei soprannomi, come ti dicevo prima, che ti stanno affibbiando su Facebook, ad esempio Budi scrive, sei un predatore. Ti piace predatore? Sì. I movimenti predatore d'aria. Sì, io, cioè i movimenti faccio in aria sono determinati dalla voglia di far gole e dalla cattiveria, quindi sì, si può associare. Dalgana invece ti definivano, dalgana addirittura ti definivano sniper, un cecchino. Ci sta anche questa dai. Va bene. Andiamo a vedere anche i tuoi numeri, vediamo se giustificano il tuo essere predatore d'aria. Soprattutto abbiamo fatto un confronto con gli altri attaccanti under 20 dei maggiori 15 campionati europei. Questa grafica dovremmo un po' mandarla in disuso, adesso perché non sei più un under 20, ci dispiace, quindi l'ultima volta che la vedremo in onda, però è molto bella Patrick, perché davanti a te c'è solo Kylian Mbappé, mica uno da poco. No, certo, certo. Ci ho giocato contro l'Europeo under 19, ci ho giocato contro in finale. Vabbè, abbiamo perso 4-0, però già lì ho dimostrato di essere un gran giocatore. Per lui 12 gol, per te 9, equamente divisi fra fase preliminare di Europa League, fase a gironi di Europa League, campionato e Coppa Italia. Ma c'è una competizione che ti piace di più, magari quella più complicata, non lo so. Qual è che ti piace di più? Il più complicato, secondo me, per ora, per adesso è il campionato. Poi io amo il campionato italiano. Poi l'Europa League, adesso che andiamo avanti, si fa sempre più difficile, incontriamo squadre sempre più forti e quindi sarà bello anche lì. In Coppa Italia è uguale come l'Europa League, si va avanti e si incontra squadre sempre più forti. Ma si sente veramente un'emozione diversa nelle notti europee? Sì, beh, io sento la stessa emozione ogni partita, quindi non cambia, non cambia tanto. Ti leggo qualche altro messaggio, ad esempio quello di Luigi che dice mi ha fatto perdere la voce il 27 dicembre al derby, era il mio primo derby e tu quindi sei un po' entrato nella sua vita da milanista. Ti rendi conto di quanto è potente il calcio? Ho perso anch'io la voce. No, beh, a me fa veramente piacere le persone come lui che mi ringraziano, ma alla fine non ho ancora fatto niente, è solo un punto di partenza. Mauro. Ecco, ragionavamo poco prima di andare in onda, anche un po' con te, no? Questa grafica dice 5 gol in Europa League, 2 in campionato, 2 in Coppa Italia. A 19 anni hai fatto gol con la maglia del Milan in tre competizioni diverse. Eravamo andati a fare una ricerca in passant con i nostri colleghi dell'ufficio stampa del Milan su Pato. Pato l'aveva sfiorata questa cosa perché il Coppa Italia non l'aveva mai segnato. E secondo me bisogna andare molto in là, molto indietro nel tempo per trovare un attaccante italiano di 19 anni o comunque un attaccante in genere del mio di 19 anni che fa gol in tutte e tre le competizioni. Ecco, questa cosa ti dà adrenalina, ti dà voglia di continuare a scriverle queste pagine? No, sì, ma anche a un pensare, non si è un record o no, ma penso sempre a dar di più ogni partita e ogni allenamento. Non mi baso su queste cose. Senti, tu Locatelli, Calabria, Gigio, aver fatto tanti derby nelle giovanili, poi quando si arriva in prima squadra vi sono utili quelle esperienze? Sì, una piccola parte sì perché in primavera allievi giochi davanti a 100-200 persone mentre il derby come il 27 dicembre giochi davanti a 55 mila persone, 60 mila e tutta un'altra cosa. Poi segnare è ancora più bello. Poi hai sempre segnato tanto anche nelle giovanili, hai sempre tenuto medie molto alte, però in questa stagione sei migliorato ancora. Ti chiedo se è vero e ti chiedo se è la competitività della prima squadra, lo spirito di emulazione della prima squadra che genera anche questi miglioramenti. No, certo, sicuramente. Poi sai che in prima squadra devi dimostrare ancora, cioè devi dimostrare tanto e mettere in difficoltà l'allenatore come anche nei giovanili, però in prima squadra è ancora più difficile. Penso sia il minimo dare l'impegno in ogni partita, soprattutto in una squadra come il Milan. Alessandra scrive sempre su Facebook, potete mandarci i vostri commenti, li stiamo leggendo a Patrick. Difendiamo questo tesoro, tanti auguri Patrick, sei un tesoro da proteggere secondo i nostri tifosi. Ancora ti auguro una carriera splendida, scrive Alessio, soprattutto di diventare il nuovo bomber del Milan. Ma io volevo chiederti, ti ricordi, quando è che hai firmato il tuo primo autografo? Il primo autografo era una delle prime convocazioni nazionali Under-15. Abbiamo giocato contro la Germania. E come è andata a finire? Mi ha vinto 3-2 e ho fatto 3 gol. Ah, però. Sì. Allora, vediamo una foto magari di quella partita. L'abbiamo trovata sul profilo Instagram di Manuel Locatelli, perché c'è un rapporto particolare non solo in campo con Suso, ma anche con Manuel. Era il 2013, se non sbaglio, qui nazionale italiana Under-15. Tu indossavi il numero 9, Manuel Capitano con il numero 8. Siete quasi fratelli, in pratica. Siete cresciuti insieme. No, siamo più o meno fratelli, perché dieci anni insieme, ogni giorno, ogni elemento, le trasferte stanno sempre in camera insieme, quindi come un fratello. Allora, tra pochissimo magari vi daremo anche qualche sorpresa legata a Patrick e Manuel Locatelli. Prima nell'attesa, ultimissima domanda, qual è stato il tuo gol più bello? Ne hai segnati tanti. 12, anzi 13, contando anche il primo gol a Raduno a luglio, perché hai segnato anche il primo gol della stagione. Dici, qual è il tuo più bello? Vabbè, senza dubbio il gol nel derby. Il gol più bello è quello. Un'emozione indescrivibile. Poi, vabbè, i primi due gol al Bayern, quelli non li dimenticherò mai, anche quelli. E allora, grazie e tantissimi auguri a Patrick Cuttone. Grazie mille, grazie a tutti. Tanti auguri Patrick. Grazie. E noi ce li rivediamo tutti.